Ancora da Mergareco, sulle mani difesa da Mozic, Spirito cerca proprio il numero 19, fermato dal muro, non c'è nessuno Per cogliere il muro impreparato ma c'è una grande difesa di Sapoško, poi Mozic attacca di prima questa palla Per una Keita, rischiando anche il fallo, poi la pipe, Tirok Mozic, che scambio, la tiene più a po' in spirito, sta arrivando Mozic, Mozic, il mani out di Mozic Eravamo coperti però la palla rendeva un giro strano, comunque siamo già su Tirok, con Mozic che nel dubbio tira fuori una schiacciatona Il camporte Shikawa Nastro, la tiene Verona, Spirito può cercare Mozic, il tocco morbido, non ci arriva nessuno 22-25, Verona si porta sul 2-0